Ciao a tutti ragazzi! Lesara ci ha invitato tre giorni a Berlino per fare delle foto con i vari outfit e per far conoscere il marchio di Lesara anche in Italia. Ci siamo divertiti tantissimo ed è stata una bellissima esperienza. Abbiamo avuto modo di visitare questa fantastica città e siamo contenti perché è stato il nostro primo lavoro del genere insieme. E quindi bellissima esperienza. Grazie a tutti! That's a wrap!